È arrivata la bella stagione, ma non per lei. Per i 630.000 pazienti italiani che hanno bisogno di sangue, l'estate è la stagione peggiore. Ma con un po' del tuo sangue, tutto può cambiare. Donare il sangue ti costa solo un'ora, ma per chi ne ha bisogno vale una vita intera. Mamma, mamma, andiamo! Non rimandare. Quest'estate vai a donare il sangue. Quest'estate vai a donare il sangue.